Halloween torna a far paura 40 anni dopo. L'undicesimo capitolo dell'omonima saga creata nel 78 sta per tornare a terrorizzare il pubblico italiano. Una ricorrenza per giovani e giovanissimi tra un dolcetto scherzetto e feste a tema. Una cena così con gli amici e poi un giro in centro. Mascherati o no? Un po'. In discoteca all'Uav con questo individuo. In costume? No. Niente costume? No, normali, normali. A me piace come idea, poi io l'ho sempre festeggiato e mi sono sempre divertito quindi penso sia una cosa da fare. Decorazioni con zucca, spettri, bimbi alla porta a chiedere trick or treat. Così oltre confine ma anche i vicentini da anni oramai, negozi compresi, sono pronti a elargire caramelle e dolcetti per evitare malefici scherzetti. Sempre generosi. Certo non è tradizione di casa nostra e per qualcuno la moda è già passata. Si va in discoteca al massimo però cose vecchie qui. Io non ho mai festeggiato di mio. Saranno contenti i tradizionalisti ma si preparino lo stesso, qualcuno busserà comunque alla loro porta. Spettro, cose da film horror.